Esattamente una settimana fa trascorreva il venerdì del Black Friday. Beh, se vi siete fatti sfuggire quell'occasione o semplicemente non c'era nulla che vi interessava, non preoccupatevi. In questo video infatti vi andrò a mostrare dei gadget tech veramente fantastici che potrebbero essere senz'altro degli ottimi regali di Natale. Ah, e la cosa bella l'avete letta dal titolo, sono tutti sotto i 20 euro, alcuni sotto anche i 10. Quindi direi di non perdere altro tempo, iniziamo subito. Ciao a tutti ragazzi, qua come sempre Fede Tutorial e in questo canale pubblico video in ambito tech come questo e tutorial più specifici per computer e dispositivi mobile, iOS e Android. Quindi nel caso vi interessi l'argomento e siate nuovi non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e abilitate soprattutto la campanellina delle notifiche per non perdervi gli aggiornamenti di tutti i prossimi video. Il primo prodotto di oggi è forse quello più semplice di tutti che interesserà solo una parte di voi. Beh, tutti gli utenti che non hanno un iPhone X, come me tra l'altro, mi scuseranno, ma diciamo che una cover per l'ultimo dispositivo Apple rilasciato è senza dubbio un ottimo regalo. Tra l'altro ragazzi questa è una delle migliori cover per qualità prezzo che potete acquistare. Beh, giustamente molti di voi staranno dicendo ma se non hai un iPhone X come fai a valutare se effettivamente hai una cover di qualità? Semplicemente perché questa cover è stata prodotta da Easy Hatch, ovvero l'azienda che ha prodotto anche la mia cover per l'iPhone 7 che sto utilizzando da due anni e mezzo oramai. In molti mi chiedete dove l'abbia acquistata perché effettivamente è fatta molto bene, si capisce anche dai video, è molto resistente. Assomiglia moltissimo a quella originale di Apple ma costa veramente meno della metà. Questa specifica per l'iPhone X tra l'altro è ancora più bella secondo me di quella che possego io per il mio iPhone 7. Con questo design veramente accattivante che a me piace tantissimo, la cover è assolutamente in grado di proteggere sia lo schermo che la fotocamera. Nel caso non vi piacesse ovviamente potete optare anche per altre colorazioni, ad esempio trasparente oppure blu, però se volete il mio parere quella nera è assolutamente la migliore sia per qualità che per estetica. Costa sui 7 euro e poi la cosa importantissima sono riuscito a farmi regalare un codice coupon del 30% fino al 30 dicembre esclusivo per voi iscritti, quindi addirittura con il 30% di sconto se avete un iPhone X io non ci penserai due volte. Beh in una classifica del genere sotto i 20 euro un power bank ci deve essere assolutamente. Quello che ho scelto oggi è forse uno dei più famosi ovvero il power core della Anker. Qui siamo al limite dei 20 euro, lo potete trovare a 17,99 euro in questo momento ma spesso ci sono delle offerte lampo e vi spiego subito perché secondo me è il migliore. Innanzitutto le caratteristiche che amo io sono la leggerezza perché davvero è il power bank più leggero in assoluto che ho mai utilizzato e soprattutto la sua compattezza, è davvero piccolissimo per avere 10.000 mAh di capacità. Lo potete mettere tranquillamente in una tasca dei pantaloni quindi è grande praticamente come un portafoglio e ricarica il vostro dispositivo qualunque esso sia da una media di 5-6 volte da 0 a 100%. Ah utilizza anche la tecnologia quick charge quindi potete caricare il dispositivo in tempi record. Per capire quanta batteria è rimasta all'interno del power bank prima di ricaricarlo ci sono 4 comodi led che indicano rispettivamente il 25%, il 50%, il 75% e il 100% di ricarica. Come se non bastasse poi il tocco di classe all'interno trovate anche un piccolo sacchettino di stoffa molto molto bello che vi permette di portare in giro il vostro power core senza danneggiarlo e senza portarvi dietro la scatola originale che è comunque sia molto meno intuitiva e sicuramente molto più ingombrante. Beh ma il problema più grande è che ha una sola porta USB per ricaricare i dispositivi. Tranquilli ho la soluzione anche a questo. Il prossimo prodotto che vi presento infatti è un cavo multi USB della Yastec. Molto molto bello esteticamente con dei materiali che non si romperanno assolutamente lungo addirittura un metro. Beh sì ma che permette di fare questo cavo? Come vedete ha una sola porta USB mentre ha 4 porte da poter collegare con qualsiasi dispositivo. Troviamo 2 connettore lightning, 1 micro USB e 1 addirittura USB-C. Ed ecco qui che abbiamo risolto il problema di prima. Con una sola porta USB infatti saremo in grado di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Ovviamente non solo con il power core ma con qualunque porta USB disponibile. E abbiamo risolto assolutamente il problema dei cavi. Non ci sarà più bisogno di portare in giro ogni singolo cavo per il proprio dispositivo. Basta questo qui e il gioco è fatto. Ci tengo però a fare una precisazione perché non voglio che acquistiate un prodotto che poi effettivamente non rispetta le vostre aspettative. Come riportato tra l'altro sulla pagina ufficiale di Amazon ma sono sicuro che in molti magari non ci avrebbero fatto caso. Il cavo funziona solo come ricarica e non anche trasferimento dati. È comunque sia fantastico io lo ricomprerei altre 10 volte. Però sappiate solo che per scambiare dati non funziona ma per ricaricare è più che sufficiente. Passiamo ora ad un altro prodotto che farà sicuramente molto molto comodo ad alcuni di voi. Si tratta di un ricevitore Bluetooth. È davvero molto molto piccolo e permette di trasformare qualsiasi dispositivo che funziona tramite jack in Bluetooth. Quindi ad esempio un'auto che funziona tramite jack permette di renderla Bluetooth. Cosa non così scontata ma molto molto utile e poi ovviamente qualsiasi cassa o speaker che non ha disponibilità del Bluetooth. Collegando semplicemente questo mini dispositivo tramite il jack in confezione saremo in grado di collegarci attraverso il nostro smartphone e trasmettere qualsiasi brano o fonte audio direttamente nel nostro dispositivo. È realizzato in plastica quindi i materiali non sono poi così di qualità però per quello che deve fare basta e avanza. All'interno della confezione troviamo tutto sia l'adattatore che il dispositivo che il cavo per ricaricarlo e addirittura anche un cavo jack jack nel caso ne avessimo bisogno. Il tutto ha soli 16,99€ e addirittura ho un altro codice sconto per voi che vi permette di risparmiare un ulteriore 15% fino al 15 dicembre. Il link è in descrizione, correte a comprarlo. Il ricevitore però nel caso lo utilizzassimo in auto potrebbe scaricarsi nel momento in cui ne abbiamo più bisogno. E quindi come risolvere questa cosa? Con il prossimo prodotto, sempre da parte di Anker. Questo forse è il gadget più semplice di tutto il video che però funziona a meraviglia. È un normale caricatore per auto con addirittura due porte USB Quick Charge 3.0 per caricare qualsiasi dispositivo alla massima velocità. Uno può essere assolutamente il ricevitore di cui vi ho parlato poco fa e l'altro potrebbe essere tranquillamente il vostro smartphone. Beh in questo caso non c'è nient'altro da dire. Lo potete portare a casa soli 13,99€ e una volta collegato funzionerà subito. Ah la cosa bella è che le porte si illuminano di notte quindi non avrete nessun problema in macchina in qualunque orario della giornata. Siamo arrivati al penultimo gadget di questa lista e vi presento il miglior supporto da tavolo per smartphone. Quello che lo rende appetibile innanzitutto è il prezzo. Soli 12,99€ ma quasi sempre viene messo in offerta a 9,99€. Nel momento in cui sto registrando questo video è in sconto a 9,99€. Ha un design veramente fantastico e di qualità che starà tranquillamente sulla vostra scrivania e anzi darà un effetto in più. Che a me piace davvero molto rende il tutto più professionale. Se non vi piace il nero tranquilli potete comunque acquistarlo bianco, rosso oppure altri colori. Potete tranquillamente cambiare l'angolazione se lo volete più alto oppure più basso. Ed è universale, supporta praticamente qualsiasi dispositivo. iPhone, Samsung e chi più ne ha più ne metta. Ha anche un comodo foro nella parte sottostante in cui potete anche farci passare il cavo di ricarica. Nel caso vogliate caricarlo al vostro computer ma non volete dei cavi che sono sparsi su tutta la vostra scrivania. Secondo me è il migliore che potete acquistare in questo momento. E per ultimo ma di certo non per importanza troviamo il gadget migliore per chi vuole spendere meno possibile. Si tratta infatti del prodotto più economico della lista. Potete portarvelo a casa a soli 6,40€ compresa la spedizione. Ed è un supporto adesivo per smartphone veramente unico. Ringrazio tra l'altro il mio iscritto che lavora nella compagnia che produce questo supporto adesivo. Senza di lui non avrei mai scoperto questo prodotto veramente fantastico. Innanzitutto la cosa più importante. Sul sito trovate tantissime opzioni di personalizzazione. Infatti non è un normale sticker brutto nero che potete attaccare e staccare quando volete. Ma ci sono veramente tante e quando dico tante intendo decine e decine di personalizzazioni in base ai vostri gusti. Potete comprare questo supporto adesivo, attaccarlo dietro il vostro smartphone. Se utilizzate una cover va bene lo stesso. E poi potete tranquillamente attaccarlo al muro, allo specchio, dove volete. E in quel momento rimarrà attaccato, funzionante al 100%. Non si stacca tranquilli, non mi è mai successo di rompere il dispositivo per questo motivo. E il bello è che quando si sporca troppo e non attacca più bene. Potete tranquillamente lavarlo sull'acqua addirittura e continuerà a funzionare come nuovo. Quindi praticamente è indistruttibile. Fidatevi se siete come me la prima volta che lo usate poi lo utilizzerete sempre. In macchina, in ufficio, a letto, dove volete. Prendete lo smartphone e lo attaccate sul muro. Niente di più semplice. Quindi ragazzi questi erano alcuni gadget tech sotto i 20 euro. Che vi consiglio assolutamente di acquistare o perlomeno di guardare meglio e dargli una possibilità. E il primo video del genere che faccio, quindi se vi interessa l'argomento e volete altri video, come sempre, fatemelo sapere qui sotto con un bel commento. Se il video vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi anche al mio canale, come ho detto ad inizio video, per non perdervi tutti i prossimi video. Passate su tutti i miei social, soprattutto Instagram. Vi tengo aggiornati su tutte le novità. I link li trovate qui sotto in descrizione. E la cosa più importante di tutte, vi chiedo gentilmente di condividere questo video dovunque, con tutti i vostri amici. Per dare dell'idea regalo di Natale anche a loro, ma soprattutto per aiutarmi a farmi crescere. E detto questo, da FedeTutorial è tutto. Noi ci becchiamo, come sempre, in un prossimo.